Buongiorno a tutti, eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati e finalmente torniamo con un aggiornamento di PocketTube. Mi scuso se non ci sono stati frequenti aggiornamenti per il fatto che ora le mappe si stanno ingrandendo e per questo motivo ci metto più tempo e quindi non potevo mettere nessun aggiornamento in sé. E quindi appunto ci ho messo un po' di più, soprattutto perché stavo anche creando la mappa principale del livello 3, livello finale di PocketTube dove si incontreranno gli youtubers dai 100.000 iscritti in su, quindi da Yotobi a Favijay a Capobastone, comunque dai 100.000 iscritti in su. Ho creato anche un nuovo personaggio che vi faccio vedere subito prima di farvi vedere un po' la mappa, che è Franzo, non ha ovviamente 100.000 iscritti in su, ne ha penso 10.000 ma io lo seguo, mi piace molto, quindi l'ho voluto inserire. Quindi andiamo a provarlo, ne ha 10.000 iscritti, quindi lo troverete nella seconda parte, il livello 2, tra il livello 1 e il livello 2, probabilmente il livello 2, cioè i più piccoli canali del livello 2, che vi servirà soprattutto all'inizio per allenarvi molto. Non so ancora dove inserirlo, però devo ancora creare una mappa, ma il personaggio c'è già. Quindi proviamolo, testiamolo. Ecco qui, appare Franzo Games, mentre noi ci difendiamo e basta, e vediamo un po' le mosse. Ah ah, ma non muore! Ah ah, ma non muore! Ovviamente esce sempre a stessa morte, perché ho una sfiga pazzesca, ma ne ha 4. Oh merda! Ah ah, ma non muore! Coglione! Vediamo se riusciamo a trovare l'ultima. Coglione! Oh merda! Ovviamente no! Coglione! Devo coltivirlo! Oh merda! Continua a potenziarsi il fuoco, ma... Oh merda! Continua a potenziarsi il fuoco, capito? Bravo, ora lancio la mosse di fuoco. Ah, non la più umana. E quindi, non riusciamo a peccare la quarta mossa, ma voglio farvela sentire, quindi andremo su animazioni. Questo comunque è il programma che uso per crearlo. Scusate. Ma che cazzo, mi sembra che sia... Ma che cazzo! Chissà perché non l'ha usata. Qui ci sono le loro abilità. Eccoli qui, le quattro. Forse perché... Puntimana, puntimana. 140, forse perché... No, c'è un 5 puntimana, ce li ha... Ce li ha Franzogames, puntimana, ne ha 800. Quindi non capisco perché non si è riuscito a usarlo. Aumentiamoli un po' a 1200. Però comunque, sono queste le quattro mosse di Franzogames. Se vi piace anche come canale, andate a visitarlo. O se non lo conoscete, appunto, andate a visitarlo. Invece per la mappa è questa, che sto creando. Ci sono spazi al momento molto vuoti, abbastanza desertica come mappa. Ma per il fatto che devo ancora aggiungere tutti i personaggi che gireranno un po' la mappa. E qua nelle zone più vuote probabilmente aggiungerò qualcos'altro. Perché sono, diciamo, l'erba alta classica dei nemici. Qui c'è un buco che subito metto. Ok. Quindi vedrò cosa mettere qui nell'erba alta. Forse qualcosina in più ci metterò. Comunque ogni porta è un canale. Quindi è bello vasto questo mondo. Ho creato al momento soltanto una mappa. Anzi, alcune mappe sono già state create. Ma questa, diciamo, è probabilmente definitiva per Dexter. Vi spoilerò solo lui. Questa è la mappa. È una mappa desertica con un castello in fondo. E all'interno del castello potete andarlo a visitare. Dove probabilmente troverete Dexter. E probabilmente altri scagnozzi al suo interno. Ovviamente qui dovete attraversare tutto il deserto, raggiungere la montagna. Riuscire a raggiungersi. Saranno un sacco di nemici qua che appariranno. Tipo ovviamente come essere in un caverno o comunque nell'erba alta classico. E salire qui sopra, raggiungere il castello, entrare e eccetera. Questo è soltanto Dexter. Pensate un po', ogni youtuber qua avrà una mappa molto vasta. Quindi ci sarà da divertirsi. Quindi penso che per oggi è tutto. Volevo farvi solo capire che il gioco sta andando avanti. Ovviamente questa parte ci metterò un po'. Vedrò se ci saranno altri piccoli aggiornamenti. Li aggiungerò. E probabilmente rilascerò una patch per risolvere alcuni problemi. O aggiungere alcuni canali nel mappa precedente. Cioè YouTube area a livello 2, questa qua. O YouTube area a livello 1, questa qua. Vedremo. Grazie a tutti. Ci vedremo al prossimo aggiornamento di Pocketube. Ciao.